Cuore di topo. Capitolo 12. Maschio o femmina che sia, nessun topo ha il mal di testa mentre ne consola un altro. Non sono sicuro del perché, ma la seguo. Probabilmente perché sono stanco di stare da solo e la solitudine dà un senso di vuoto che è peggiore della fame. Lei è l'unica creatura che non ha cercato di uccidermi o catturarmi da quando sono scappato e non posso lasciarla andare via così. Non voglio infastidirti, le grido facendo del mio meglio per tenere il suo passo, ma vedi di recente ho perso tutta la mia famiglia. Naturalmente ti chiederai come sia possibile per un topo perderne altri 96 ma stavamo scappando dal luogo orribile. È stata un'idea di Benji. Benji è mio fratello maggiore, insomma uno di loro. Ho 48 fratelli e... All'improvviso la bella morettina si ferma di botto e si gira a guardarmi. Hai perso la tua colonia? Annuisco tristemente. A proposito, una colonia è il termine appropriato per definire un gruppo o una famiglia di topi, come un branco di lupi, una mandria di bufali, un greggio di pecore o uno sciame di zanzare. Una colonia di topi. Ma, aggiungo, sono praticamente certo che ben presto la mia famiglia scapperà di nuovo e verrà a cercarmi. Ho lasciato una sorta di scia profumata che potranno seguire. Il mio è un odore molto particolare. La ragazza si arriccia i baffi e annusa l'aria attorno a me. Tu sei di spazzatura avvolta nel trifoglio. Con le zampe anteriori mi liscio il pelo arruffato. È ancora un po' appiccicoso per via di quel sugo marcio che sciabordava in fondo al cassonetto. Beh, proseguo, ieri ho avuto una giornata decisamente infelice e, detto francamente, oggi non è andata molto meglio. In realtà saranno ormai due giorni da quando siamo scappati dal luogo orribile. Ho perso la cognizione del tempo. Così come hai perso la tua colonia. Mi guardo alla punta delle zampe. Oh, che vergogna. Sì, borbotto, ci stavano inseguendo e avrei dovuto restare con loro. Sembra addolcirsi leggermente. Io mi chiamo Michaela. La mia colonia vive in quella casa laggiù. Hai una colonia? Certo che ce l'ho. E indovina un po'? La mia non l'ho persa. So che mi sta solo prendendo in giro, ma brucia ugualmente. Ho scoperto che la verità lo fa spesso. Cos'hai all'orecchio? Chiede Michaela. Mi tocco la targhetta che mi hanno attaccato all'orecchio quando sono nato. C'è scritto 97, che è come mi chiamavano i lunghi camici nel luogo orribile. Glielo avrei anche detto il mio vero nome se si fossero presi la briga di chiederlo. Ma riesco solo a dire, non voglio parlarne. Tutta la mia famiglia ha le targhette alle orecchie, ma da queste parti nessun topo le ha. È solo un altro aspetto della mia stranezza. Dimmi, Isaia, mi fa lei guardandomi dall'alto in basso, quando è stata l'ultima volta che hai mangiato qualcosa che non provenisse dal fondo di un bidone della spazzatura. Sento salirmi un rigurgito nauseante che mi ricorda la mia cosiddetta colazione. Ne è passato un po' di tempo, ammetto. Beh, grazie ai brofi noi abbiamo sempre cibo in abbondanza ed è anche roba buona e non ci dispiace condividerlo. Prosegue Michaela, provando finalmente un po' di compassione per me. Vieni, seguimi. Adesso è il mio turno di sentirmi confuso. Cosa sono i brofi? Chiedo mentre avanziamo trotterellando. I nostri ospiti umani? Sono dei veri sciattoni. Mangialo in ogni stanza della casa e intendo proprio ogni stanza, persino quella dove hai presente. Annuisco. Credo che si riferisca alla lavanderia o forse al soggiorno, dove ovviamente si soggiorna, non si mangia. Ho letto che le case degli umani hanno stanze dedicate agli scopi più diversi. Le sale da pranzo per pranzare, le stanze da bagno per fare il bagno e le sale tv per stare a fissare delle scatole elettroniche. Con i brofi è facilissimo andare in cerca di cibo, spiega Michaela mentre seguiamo una macchia lungo il muro posteriore della catapecchia sgangherata che mi ha indicato prima. La macchia è un accumulo di sporcizia e grasso creato dallo strofinarsi dei topi contro la parete. Funziona da cartello stradale lungo il normale tragitto seguito dalla famiglia di Michaela. Sei sicura che il resto della tua famiglia non darà fastidio che mi intrometta in questo modo? Non se dimostrerai di valere quanto pesi, il che non dovrebbe riuscirti molto difficile perché, detto francamente, Isaia, tu sembri pesare meno di una foglia d'acero. Sembra che Michaela si diverta a prendermi un po' in giro e a dire il vero non mi importa. È quello che si fa di solito tra i membri di una stessa famiglia. Un momento. Michaela dice che devo dimostrare di valere quanto peso. È possibile? Beh, ma allora, guarda un po', Michaela non mi sta semplicemente invitando a fare una visita nella sua tana, mi sta invitando a far parte della sua colonia. Cuore di topo, capitolo 13. Tutto ciò che non viene donato viene perduto. Triplo wow! E io che pensavo che la mia famiglia fosse numerosa. Michaela ha più di 200 fratelli, sorelle, zii e zii e cugino di primo, secondo e terzo grado. La topolina si produce in un fischio acutissimo. Non è armonioso come il suo canto, ma di certo riesce a richiamare l'attenzione. Ascoltate tutti, grida. Questo è Isaia. È una specie di orfano e si è perso. Ha un orecchino e il suo pelo è blu. Fateveno la ragione. Benvenuto, Isaia, mi accoglie un vecchio topo che suppongo sia il nonno di tutti gli altri accalcati in questa animatissima tana. Mi chiamo James il saggio. Posso farti una domanda? Certamente, rispondo. Come mai il tuo pelo è così, così blu? Non so, digliero con certezza, signore. È solo che è sempre stato così, blu. E allora benvenuto, nuovo amico blu, proclama lui. I tuoi giorni da orfano sono finiti. Questa sarà la tua nuova casa. La nostra colonia è la tua colonia. Gli altri topi squittiscono di gioia e io gioisco. Dopo una notte passata da solo al mondo, sono di nuovo al sicuro in una colonia. Ma poi ricordo qualcosa di importante. Potreste essere la mia famiglia temporanea? La mia famiglia vera e propria è intrappolata nel luogo orribile, ma scapperanno tutti di nuovo, ne sono certo, dico a James con una risatina nervosa, perché non voglio apparire ingrato di fronte alla loro ospitalità, per la quale, detto per inciso, noi topi siamo famosi. Dico sul serio? I topi prendono sempre in casa estranei, vagabondi o bambini smarriti. Credo di poter essere tutte e tre le cose. Direi anzi che noi topi saremmo degli eccellenti locandieri, salvo il fatto che probabilmente faremmo scappare tutti i nostri ospiti umani al momento di sprimacciare i loro cuscini. Naturalmente, risponde James, finché non ti sarai riunito con la tua famiglia, la nostra casa sarà la tua casa. Il mio stomaco emette di nuovo quel gorgoglio perché il mio naso ha colto il profumo di qualcosa di delizioso, qualcosa con della cioccolata. Ehm, non vorrei sembrare sgarbato, signore, ma per quanto riguarda il vostro cibo? James sorride. Quel che è nostro è tuo, cibo compreso. Sono così felice che abbraccerei Michaela, ma la mia salvatrice è sparita da qualche parte nel mare di grigio e marrone che mi circonda. C'è una cosa da dire sul pelo blu o rosso o chartreuse. Di certo rende più facile trovare i tuoi amici. Un nerboruto topo grigio salta fuori dalla folla che si è raccolta dietro l'anziano James, il saggio. Ti facciamo fare un giro e ti prenderemo anche qualcosa da mangiare. Io sono Gabriel. Questa è mia sorella Gwindle, mi dice indicando una femmina grigia un po' più piccola. Sorrido timidamente. Ciao, qualcuno di voi sa dove è andata Michaela? Via, risponde Gwindle con un cenno della zampa. Lei è fatta così, un po' aristoide se capisci cosa intendo. È una cantante meravigliosa, osservo. Gabriel ride. Una cantante? Impossibile, ribatte Gwindle. Le teppoline non cantano, lo saprei. Vieni Isaia, mi invita Gabriel, dandomi un colpetto alla schiena. Il buffet della colazione è da questa parte. Questa mattina i brofi avevano il bacon. Bacon? Chiedo. Cos'è? Una parola degli umani. Ma che cosa significa la parola bacon? Una delizia croccante, rispose Gwindle. Vedrai. Capitolo 14. Un peso sembra sempre più leggero quando hai degli amici che ti aiutano a portarlo. Dopo un banchetto a base di bacon, e ancora bacon, che in effetti devo dire è la più deliziosa leccornia croccante che abbia mai rosicchiato, Gabriel e Gwindle mi accompagnano in una rapida visita del loro covo. La loro casa è estremamente pulita e ben organizzata, altro elemento in cui i topi sono particolarmente abili. I ratti saranno pure sporchi, ma a noi topi piace restare sempre puliti e asciutti. Per questo motivo mi sono offeso così tanto quando quella fornaia lanciatrice di mattarello mi ha chiamato sudicio roditore. Io vado molto orgoglioso della mia pulizia. Da un certo punto di vista noi topi ci laviamo così spesso da somigliare ai gatti. L'ho fatto di nuovo. Mi sono spaventato da solo pronunciando la parola gatti. Devo smetterla. Questa è la zona notte, mi spiega Gabriel, mentre passiamo di fianco a una fila ordinata di letti di paglia sistemati in un comodo angolino. La zona pranzo l'hai già vista, aggiunge Gwindle. Sei pregato di non portare cibi o bevande a letto con te. A meno che non ti piacciono le formiche, interviene Gabriel con un brivido di disgusto. E laggiù, continua Gwindle, mentre proseguiamo lungo un tunnel, c'è il... Hai presente? Devi sempre fare tu sai cosa laggiù, mi istruisce Gabriel. In realtà non lo so, ma di certo puzza parecchio. Come i miei truccioli di cedro dopo che ho... Oh oh. Andate fino là in fondo per fare i vostri bisogni? Chiedo. Beh direi, risponde Gabriel. Per caso vorresti farli nel posto in cui dormi o mangi? No, rispondo io con un'altra risatina nervosa. Certo che no, sarebbe pochigienico. E indecente, aggiunge Gwindle. Parecchio indecente. Ma indovinate un po'? È esattamente quello che ci facevano fare nel luogo orribile. Era una delle cose che lo rendeva così sbalorditivamente spaventoso. Soprattutto se ti capitava di rigirarti nel sonno. Non che io l'abbia mai fatto. Di solito ero troppo spaventato, perfino per chiudere gli occhi. Allora, dice Gabriel, sei pronto per ispezionare il resto della casa? C'è altro? Molto altro. E potrebbe esserci dell'altro bacon. O dei Doritos, aggiunge Gwindle. Doritos, ripeto. D-O-R-I-T-O-S... Eh? Niente. Quasi tutti i topi non sanno sillabare. Io sì, naturalmente. E non riesco a dimenticare quel sacchetto spiegazzato che ho visto prima di arrivare alla sporgenza fuori dal luogo orribile. Anche quelli erano Doritos. Che cosa sono esattamente i Doritos? Chiedo. Un'altra le cornea dei brofi, risponde Gabriel. Se ti capitano quelli al gusto di nachos al formaggio, spiega Gwindle, e non quelli al gusto di condimento per insalata o di ali di pollo piccanti. Non ho idea di che cosa stia parlando, ma non c'è tempo per chiedere. Svicoliamo in fila indiana tra le pareti e nelle assi sotto il pavimento imbarcato. Gabriel ci fa strada. È uno di quei topi che fa automaticamente sentire tutti gli altri più sicuri, come mio fratello maggiore Benji. Visto che siamo in tre, dice Gabriel, dovremmo riuscire a portare a casa un bottino bello grosso. Da questa parte interviene Gwindle. Passiamo dallo scarico del lavandino. Ci porterà dritto nella cucina dei brofi. Procediamo rapidamente di fianco alla conduttura e ci ritroviamo in un armadietto ingombro di lattine, bombolette spray e un'altra traboccante pattumiera. «Cibo appena usato!» esclamo, risalendo di corsa il fianco della pattumiera. «C'è un panino mangiato per metà», riferisco. «Dal profumo sembra delizioso. Vedo una fetta di pizza con il segno di un morso!» «Lascia stare», mi fa Gabriel. «Questi brofi sono dei tali maiali che ben presto ci faremo dei pranzetti di lusso. Non c'è bisogno di attingere ai loro avanzi di pattume mezzi smaggiucchiati. Vieni!» mi chiama Gwindle. «Salta giù! Abbiamo bisogno del tuo aiuto per aprire la porta di questo armadietto». Il signor Brofi lascia sempre dall'altra parte una pila di abiti da lavoro sporchi per impedire che la porta si spalanchi. Salto giù, giro attorno a una bottiglia con l'etichetta «detergente universale» che sembra non essere mai stata usata e raggiungo Gwindle e Gabriel dietro la porta dell'armadietto della cucina. «Punta le zampe», mi istruisce Gabriel. «Appoggia la schiena al legno. Uno, due, tre, spingi! Spingiamo tutti». Nella porta si apre una piccola fessura. «Abiti da lavoro sporchi», commenta Gwindle annusando l'aria. «Ancora!» «Annuso anch'io». È un odore vagamente familiare e per un breve secondo mi ricorda casa. Poi l'aroma di cibo caldo filtra dall'apertura nella porta dell'armadietto. Potremmo spingere ancora, ma come ho detto quella prima spinta ha aperto una fessura e come ricorderete a noi topi una fessura basta e avanza. Cuore di topo. Capitolo 15. Le mele dall'altra parte del muro sono sempre le più dolci e anche i ringo. Chiamare Porcile la casa dei brofi sarebbe un insulto per tutti i maiali del mondo. Sacchetti di cibo accartocciati e frutti marci sono sparpagliati alla rinfusa sul tavolo della cucina. C'è anche una discreta montagna di biancheria sporca davanti al lavello, calzini incrostati, mutande sudice e degli unti abiti da lavoro verdi il cui aspetto e odore mi appare stranamente familiare. Li sto annusando per bene quando Gabriel mi tocca una spalla. Siamo venuti qui per raccogliere cibo e saia, non per annusare biancheria sporca. Giusto? È solo che su questi pantaloni e su questa camicia verde ho annusato qualcosa che ho già sentito. Beh, sono rimasti ammonticchiati qui per almeno una settimana. Ma non è qui che ho già sentito quell'odore. Ragazzi? Chiama Gwindel da sopra al banco. Abbiamo dei biscotti! Al cioccolato con scaglie di cioccolato! Uo 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 grida Gabriel agitando esultanto la coda. Bel colpo! Risale di corsa il fianco dell'armadietto. Io gli corro dietro. Esame del cibo annuncia Gwindel. Certamente conferma Gabriel. Vedi, Isaia, prima di portare nella tana un cibo nuovo e mai provato, dobbiamo essere assolutamente certi che i topi lo possano consumare in sicurezza. Diamoci dentro. Così facciamo. E... Sono una delizia! Dobbiamo assolutamente portarne un po' al resto del gruppo, dichiara Gabriel. Gwindel arriccia il muso. Mmm... Anche questa scatola ha un odore squisito. No! Grido. Non entrare lì! Perché no? Emana un profumo di burro d'arachidi. Fa per avventurarsi nella scatola marrone e io mi tuffo per bloccarla. È una trappola per topi! Grido leggendo quello che è scritto sul fianco di quella bara per topi di cartone. Il pavimento è coperto di colla e come esca ci hanno messo del burro d'arachidi. Se entri non esci più! Gwindel e suo fratello esaminano attentamente la scatola. Accidenti a quegli spregevoli brofi! Dice Gabriel. Come hai fatto a capire che era una trappola Esaia? Io... ho letto la scatola. Eh? Quelle sono parole, spiego indicando l'etichetta. Le parole ti dicono delle cose. Sia Gabriel sia Gwindel mi guardano occhi sbarrati. Tu sei piuttosto diverso dagli altri, non è così? Chiede Gabriel. Suppongo di sì. Leggere è semplicemente qualcosa che ho imparato da piccolo. Può essere molto utile. Per esempio, leggendo l'etichetta, ho scoperto che quella scatola contiene cereali alla frutta. I brofi mangiano cereali, interviene Gwindel. Non è un cibo troppo sano per loro? E quelli sono ringori pieni. Wow! esclama Gabriel. Hanno un'aria molto appetitosa. Inoltre, sono rotondi, continuo. Perciò sarà facile farli rotolare fino alla tana. Ottima idea! Ma proprio mentre stiamo per far rotolare il primo biscotto fuori dalla sua confezione di plastica spiegazzata, sentiamo un rumore di passi. Il pesante clomp flick clomp di chi cammina pigramente indossando delle scarpe slacciate. Nascondiamoci! sussurra Gwindel. Ci infiliamo tutti e tre dietro la scatola di cereali. Quando sbirciamo da dietro il bordo, vedo uno sciatto ragazzino con una pancia tremolante che porta una maglia da football dei Chicago Beers, calzoncini a scacchi e per l'appunto scarpe da tennis slacciate. Il ragazzo indossa anche delle cuffie, dalle quali rimbomba un'orribile musica a tutto volume. Trova nel frigo una confezione da due litri di gazzosa e la tracanna direttamente dalla bottiglia. Dopodiché rutta come una rana toro e inizia a prepararsi un panino schiaffandoci dentro prosciutto, formaggio, mortadella, salame, altro formaggio, tacchino, maionese, ketchup e patatine al mais. Quello è Dwayne! Mi sussurra all'orecchio Gabriel. È il figlio dei brofi, figlio unico. Direi che è un bene, gli bisbiglio di rimando. Se avesse fratelli o sorelle probabilmente morirebbero di fame. È un disturbato alimentare di prima categoria, mormora Gwindel. Come l'avesse sentita, Dwayne afferra qualcosa nel frigor, la esamina per mezzo secondo e poi se la butta dietro le spalle senza toccarla. Oh ragazzi! Ansi Mangwindel facendo schioccare le labbra. Quello è un cornetto alla crema. Cos'è un cornetto alla crema? Chiedo. Uno strumento musicale commestibile? No amico blu! Gabriel letteralmente la bava alla bocca. È un tubo di pasta sfoglia farcito di una soffice crema. Il mio dessert preferito in assoluto. È anche il mio, aggiunge Gwindel. Che diamine! Tutti adorano i cornetti alla crema, sentenzia Gabriel. Perfino quella ristoide di Michaela. Beh, questo di certo aumenta il mio interesse del dessert scartato da Dwayne. Perché il ragazzo lo butta per terra? Chiedo. Ha tanto di quel cibo tra cui scegliere, risponde Gabriel, che non sa nemmeno riconoscere le leccornie che ha in mano. Il cibo che non vuole si limita a buttarlo per terra per farlo leccare al gatto. Resto senza fiato. Gatto? Oh sì, i brofi hanno un gatto, un mostro con dei maligni occhi gialli. È pelato e con la pelle grinzosa interviene Gwindel ed è anche un vero assassino. Resto di nuovo senza fiato. Non è che per caso si chiama Lucifero? Sì, risponde Gabriel. Come fai a saperlo? Ci siamo già incontrati. Mi tiro nervosamente il pelo del collo e spero davvero che non capiti mai più? Cuore di Topo, capitolo 16. Paura e coraggio sono fratelli, il tipo di fratelli che si fanno ammattire a vicenda. Dopo essersi preparato un panino più grosso di uno scarpone da lavoro, taglia 46, Dwayne Brofi esce dondolando dalla cucina. Lo mangerà sul divano della sala tv, dice Gabriel. È quello che fa ogni giorno, aggiunge Gwindel. Ma dobbiamo sbrigarci, prosegue Gabriel. Tra poco arriverà qui Lucifero per ripulire quel cornetto. I gatti amano la crema quasi quanto amano sgranocchiare i topi. Aiuto Gabriel e Gwindel a far rotolare i biscotti fino al bordo del bancone. Ma come facciamo a farli cadere giù senza che si sbriciolino tutti? Chiede Gwindel, sbirciando oltre il bordo. Mi guardo attorno. Semplice, rispondo. Diamo ai biscotti un cuscino sul quale atterrare. Schizzo verso il piano cottura e trovo un morbido guanto da forno imbottito. Lo addento per l'estremità e lo trascino fino al bordo. Per primo lasciamo cadere questo. È soffice, è spugnoso. Sarà il nostro bersaglio quando spingeremo i biscotti oltre il precipizio. Gabriel e Gwindel sembrano confusi. Eh? Precipizio è un'altra parola per indicare il dirupo oltre il bordo del bancone. Ah! Facciamo scivolare il guanto imbottito oltre il bordo. Atterra con un lieve flop. Quindi facciamo rotolare i biscotti. Il loro atterraggio è morbido. Niente sbriciolamenti. Niente frantumi. Niente ripieno schizzato qua e là. Sei un topo davvero ingegnoso, Isaia. Esclama Gabriel. Ma faremo meglio a muoverci. Lucifero deve essere già in caccia. Scendiamo di corsa dai lati dell'armadietto e facciamo rotolare i biscotti sotto il lavello. Poi, tenendoci vicini al battiscopa, ci dirigiamo verso il frigo, davanti al quale Duane ha lasciato cadere svariati pezzi di formaggio e carne mentre si preparava il panino. Un bottino eccellente, commenta Gabriel, quando tutto il cibo è stato messo al sicuro dietro la porta dell'armadietto. Torniamo a casa e festeggiamo con un bel banchetto familiare. Io esito. Sto pensando a quel cornetto alla crema lasciato in mezzo al pavimento e al fatto che, a detta di Gwindel, sia il dessert preferito da Michaela. Forse, se le porto in dono questa leccornia, canterà di nuovo per me. Ma Lucifero potrebbe arrivare da un momento all'altro e io, come sapete, non sono il topo più coraggioso della colonia. Aspettate voi due, dico loro. Poi traggo un profondo rospiro. Per la prima volta in vita mia mi rendo conto che il coraggio è uno strano miscuglio di faccia tosta e pazzia. Devi essere matto per andare a prendere un cornetto alla crema quando sai che un gatto perfido potrebbe aggredirti da un momento all'altro. Ma, per quanto sia un atto incredibilmente pericoloso e oserei dire stupido, mi lancio a tutta velocità verso il centro del pavimento della cucina. Con il cuore che mi batte all'impazzata, afferro la pasta sfoglia e torno di corsa a raggiungere i miei amici sotto il lavello. Sei davvero un topolino coraggioso, si complimenta Gabriel. In realtà no, rispondo, l'ho fatto per un'amica. Quella sera si tiene una gigantesca cena familiare. Oltre 200 topi a banchettare con la carne e le altre prelibatezze che Gabriel, Gwindel e io abbiamo portato a casa dalla cucina dei brofi. Somiglia un po' alla festa del ringraziamento degli umani, soprattutto quando James il saggio, si alza dal suo di tale sedia a impartire la benedizione. Ti siamo davvero grati, o Dio dei topi, per questo dono generoso. Grazie per averci condotto nella terra dei brofi, dove ogni topo può mangiare a sazietà e allo stesso tempo trovare abbastanza cibo da spartire con la sua famiglia, perché è proprio questa la più grande delle benedizioni, la famiglia. Tutti i commensali annuiscono e ripetono il ritornello, la famiglia. Non credo ci sia mai stata una festa più bella. La carne, il formaggio e i biscotti sono deliziosi, specialmente se cosparsi da pezzetti di bacon. Ma il cornetto alla crema, tagliato a sottili fettine con un filo interdentale, è celestiale quanto la voce di Michaela. Lei è seduta all'estremità opposta del tavolo e ha un'aria davvero felice, mentre si lecca via dai baffi la glassa bianca. Anzi, sembra quasi che potrebbe mettersi a cantare da un momento all'altro. Naturalmente non lo fa. Tutti sanno che le topoline non sono capaci di cantare. Quando la tavola è sparecchiata e i piatti messi via, è venuto il momento di raggomitolarmi con la mia nuova famiglia per la notte. Famiglia. Jamie il saggio aveva ragione. È una parola così calda, meravigliosa, la parola più rassicurante di tutte. A parer mio, la famiglia è l'autentico cornetto alla crema della vita, ripieno di dolcezza, per la quale vale la pena di rischiare la vita. Quindi, sussurro un'altra preghiera di ringraziamento topesco, sono grato di essere con la famiglia di Michaela e spero di ritrovare la mia. Cuore di topo, capitolo 17. È molto importante avere qualcosa da fare, qualcosa da amare e qualcosa in cui sperare. La mattina dopo sono in piedi prima di tutti gli altri, perché, come ricorderete, quasi tutti i topi sono creature notturne e crepuscolari e questo significa che non vedono molto al del mattino, a parte le prime luci dell'alba. Io però sono stato sintonizzato sin dalla nascita sull'orario degli umani, perciò, mentre tutti sonnecchiano, sono da solo con i miei pensieri. Nella mia mente si affollano i ricordi della mia famiglia. Il mio desiderio segreto? Che tutti riescano a scappare dal luogo orribile e vengano a vivere con me e i miei nuovi amici sotto la casa dei brofi. C'è un sacco di spazio e i brofi lasciano in giro cibo sufficiente a sfamare una mezza dozzina di famiglie di topi. Basterebbe uno solo dei mega panini di Duane per nutrirne 600. Diverse ore dopo, al crepuscolo, i miei fratelli e sorelle adottivi iniziano a stiracchiarsi. Vedo Michaela in cucina, intenta a ripulire dopo lo splendido banchetto di ieri sera. Il suo mantello marrone è così lucido e bello, scommetto che l'ha appena spazzolato, scintilla sotto la pallida luce che filtra dal soffitto della tana. Naturalmente lei non si accorge che la sto guardando, il che va benissimo. Ma darei qualsiasi cosa per un'altra fiammata di coraggio, quel tanto sufficiente a chiederle di cantare ancora. Non per me, solo vicino a me, per poterla sentire. Ma da quando mi ha portato qui e mi ha presentato alla sua famiglia allargata, la topolina più carina che abbia mai conosciuto mi ha quasi del tutto ignorato. Non è che sia stata antipatica o scortese, solo indifferente. Mi domando se sappia che sono stato io a portare a casa il cornetto alla crema ieri sera o che ho rischiato la vita per prenderglielo. Probabilmente no. E anche se lo sapesse, temo che non ne rimarrebbe impressionata o forse nemmeno le importerebbe. E perciò sospiro. Ho sospirato parecchio da quando ho posato lo sguardo per la prima volta sulla mia splendida cantante marrone. Mentre me ne sto qui a sospirare tristemente e a compatirmi, Gabriel e Gwindel saettano da dietro un angolo insieme ad altri quattro topi. Vieni Isaia, mi invita Gabriel. È il momento di un'altra spedizione per il cibo. Dai brofi è ora di cena, spiega Gwindel. Questo significa che tra poco inizierà a piovere cibo sotto il tavolo della sala da pranzo. Dobbiamo essere rapidi, aggiunge Gabriel. Andarsene in giro di notte è pericoloso perché Lucifero sarà sveglio. Già, anche i gatti sono creature notturne. La vita dei topi sarebbe molto più semplice se non condividesse gli orari con quelli del loro predatore principale. Perciò, tutti e sette, attraversiamo di corsa le gallerie tra le pareti, risaliamo il condotto del lavandino, e attraversiamo il pavimento della cucina per raggiungere la sala da pranzo dei brofi. Non è un bel vedere. Sostanzialmente non vediamo altro che chiappe. Grosse chiappe paffute. Sono afflosciate come bisacce ai lati di scricchiolanti sedie di legno, messe a dura prova da tutto quel pese. Passami il ketchup, dice il signor Brofi. Metti il ketchup sul purè di patate, ribatte un donnone che suppongo essere la signora Brofi. Sì, insiste il signor Brofi. Abbiamo finito quell'accidente di maionese e mi sono pappato tutto il sugo. A me piace infilare nel purè un intero panetto di burro, dice Duane mentre è rimesta in un cumulo di grumosa sbobba gialla. Il burro rende tutto più buono. Grugnisce di piacere ficcandosi in bocca un enorme boccone di poltiglia butirrosa. A dire il vero, tutti i Brofi emettono un sonoro gnam gnam mentre mangiano. Potrebbero scoppiare dei fuochi d'artificio in cucina e probabilmente nemmeno se ne accorgerebbero. Duane si infila in bocca un'altra porzione di purè untuoso. Metà gli cade dalla bocca come un sasso molliccio, gli rimbalza sul petto e cade per terra. Vai! sussurra Gabriel. Gwinden attraversa il pavimento alla velocità della luce, raccoglie il globo di sbobba e senza rallentare il passo lo porta nell'armadietto della cucina. Il prossimo cibo a cadere è un'intera fetta di polpettone che la signora Brofi si lascia sfuggire quando il marito gli chiede la terza porzione. Due topi schizzano via e afferrano il pezzo di carne prima ancora che tocchi il tappeto. Poi Duane si pulisce la faccia unta con un tovagliolo di stoffa che alla fine butta per terra. Questo mi fa venire un'idea brillante. Cuore di topo. Capitolo 18. Nessuna squadra lavora bene senza un lavoro di squadra. Mi sento proprio come mio fratello maggiore Benji quando elabora un piano. Chiedo a Gabriel e ad altri due topi di nome Gilbert e George di aiutarmi a trasformare il tovagliolo di Duane in una rete per cibo. Ognuno di noi ne afferra un angolo e lo tira, spiego. Quando il cibo cade non dobbiamo fare altro che raccoglierlo nel tovagliolo. In questo modo possiamo trasportare un peso molto maggiore di quanto potremmo fare con le sue zampe. E quando è pieno, interviene Gabriel facendo seguito alla mia idea, possiamo legare i quattro angoli per farne un sacco. Ci infiliamo tutti e quattro sotto il tavolo. I brofi sono talmente impegnati a riempirsi le bocche che non si accorgono di noi che gli sfrecciamo sotto le sedie in mezzo ai piedi. In men che non si dica, catturiamo due panini, un altro cumulo di purè, una pannocchia, altro purè, una seconda fetta di polpettone e un'intera porzione di deliziosi broccoli che Duane ha scaricato dal suo piatto mentre sua madre non stava guardando. Trasciniamo il nostro sacco rigonfio attraverso il pavimento mentre i brofi passano al dessert, ingurgitando dozzine di bomboloni alla marmellata. Quando alcuni cadono rimbalzando sulle pance dei brofi e atterrano sul pavimento, due topi di nomi Goffrey e Gilligan scattano a raccoglierli. Nel frattempo, insieme agli altri topi, trascino il nostro voluminoso sacco di cibarie in cucina. Siamo così felici che ci mettiamo a cantare. Le voci dei topi sono ultrasoniche, perciò i brofi non possono sentirci. Il nostro canto non è neppure paragonabile a quello di Michaela naturalmente, ma la musica rende molto più piacevole qualsiasi lavoro. Il nostro sacco di cibo è talmente grosso che dobbiamo scaricarlo sotto il lavello e trasportare le nostre leccornie una per una dal buco del canale di scarico. Ora il nostro canto riecheggia lungo le pareti di legno delle intercapedini. È un suono maestoso, come fossimo in una sala concerti. Vorrei poter sentire Michaela cantare dove c'è questa eco, dico a Gabriel. Mi farebbe venire una doppia pelle d'oca. Michaela non sa cantare, risponde Gabriel ridacchiando. Te l'abbiamo detto, è una topolina. Michaela canta con una voce meravigliosa. L'ho sentita e incrociando le dita spero di sentirla cantare di nuovo. Gabriel scuote la testa. Le topoline non cantano, solo i topi maschi sanno cantare. Mi limito a sorridere perché ho la sensazione di essere l'unico topo della colonia a conoscere la verità su Michaela e sul suo talento nascosto. In qualche modo questo me la fa sentire più vicina, malgrado il discatco con il quale mi sta trattando. Dove sono quei bomboloni? chiede Gabriel quando il resto del cibo è al sicuro nella galleria sotto lo scarico del lavandino. Li abbiamo lasciati cadere, ammettono Goffrey e Gilligan, che sembrano entrambi persino più giovani di me. La marmellata li rendeva troppo scivolosi per riuscire a trasportarli fino in cucina. Gabriel scuote la testa. Windel ci resterà malissimo. Lei adora quei bomboloni. Beh, intervengo io ricordando come anche Michaela abbia un debole per i dolci. Non può esserci un autentico banchetto familiare senza uno squisito dessert. Torniamo a prenderli. Perciò sfiliamo da sotto il lavandino, fischiettando mentre attraversiamo la cucina come un'allegra parata di topi. È divertente, finché non lo è più. Cuore di topo, capitolo 19. Il topo, che ha un solo buco in cui scappare, finisce per farsi prendere. Lucifero, il gatto dalla pelle grinzosa, con i maligni occhi gialli, si aggira tra i ripiani e ingombri della cucina in cerca di qualcosa da mangiare. Vede i bomboloni in mezzo alla stanza. E poi vede noi. Fa le fusa. Credo significhi che preferisce i topi ripieni di topo ai bomboloni ripieni di marmellata. Mi fermo di colpo a metà strada tra il lavello e i dolci. Che fare? Che fare? Abbandonare i dessert e fuggire? O rischiare la vita per andare a prenderli? Ancora una volta mi pongo l'annosa questione. Sono un uomo o sono un topo? Beh, sicuramente sono un topo e dopo aver osservato per qualche tempo i brofi, non sono troppo sicuro che vorrei essere un uomo. Ma voglio che Michaela conservi degli affettuosi ricordi del tempo che abbiamo trascorso nella Tana, anche se non ne abbiamo trascorso molto insieme. Perciò, ignorando tutti i miei pusillanimi timori e indifferente al mio razionalissimo istinto di sopravvivenza, scatto a razzo sul pavimento della cucina. Isaia, grida Gabriel, che si è andato a nascondere sotto il frigorifero. Che stai facendo in nome del dio dei topi? Quello che deve fare ogni topo amante della musica, strillo a squarciagola mentre sfreccio zizzagando sul pavimento. Sul bancone, Lucifero è incantato dalle mie rapide serpentine. I gatti adorano osservare oggetti che sfrecciano sul pavimento. Riflessi, puntatori laser, topi. Ma quando smettono di restare incantati, di solito ti balzano addosso. Non ho molto tempo. Mi fermo derapando davanti ai bomboloni e li lancio all'indietro a pallonetto, uno dopo l'altro. «Preso!» grida Gilligan alle mie spalle. «Questo è per te, Goffri!» urlo io. Mi giro su me stesso e sferro un calcio a un altro bombolone. Il dolce decolla in direzione di Goffri che corre fuori dal suo nascondiglio per prenderlo al volo. «Di a tutti? Che il dessert lo offro io!» grido. Gli altri troppi scappano, prendendo tutti i bomboloni che sono riuscito a salvare. Perché Lucifero entra in azione. Salta giù dal bancone, rovesciando un rotolo di carta da cucina e una tortiera. Ha sfoderato gli artigli e sono certo che sa come usarli. Una frazione di secondo, prima che riduca il mio corpicino in uno sminuzzato di carne di topo, schizzo di lato. Gli artigli di Lucifero finiscono per graffiare il pavimento di legno, anziché la mia schiena. Ancora una volta, il mio allenamento alla ruota si rivela utile. Spingendo a tutta forza, scatto verso il battiscopa. Lucifero strilla furioso e parte all'inseguimento. Pensando in fretta, mi arrampico sui pomoli dei cassetti e scappo lungo il bancone in gombro. Lucifero salta su alle mie spalle. Io, piroetto tra le pile di piatti sporchi e salto sopra una serie di tazze sudice. Correndo a rotta di collo, Lucifero ne abbatte alcune e le manda a fracassarsi sul pavimento. Tira giù anche una scatola di biscotti a forma di maiale e un contenitore di plastica pieno di fusilli che si schianta ticchettando sul pavimento. Mentre Lucifero scivola e sbanda sulla pasta che rotola, io salto giù dal banco, sgattaio lo fuori dalla cucina e schizzo in quella che sembra essere la camera di Duane Brophy. Ci sono sacchetti di patatine spiegazzati, bottiglie di gazzosa vuote e involucri di panzerotti surgelati sparpagliati dappertutto. Mi stringo il naso e mi infilo sotto un cumulo di mutande sporche di Duane. La puzza potrebbe uccidermi prima ancora che lo faccia il gatto. Cuore di topo, capitolo 20. Chi lotta e poi scappa, il dessert si pappa. Mentre mi spingo più a fondo nel cumulo di biancheria sporca, Lucifero colpisce con la zampa i convulsi rigonfiamenti che tradiscono ogni mia mossa. Come fosse dotato di una vista a raggi X, riesce a colpirmi in mezzo a quell'oceano di magliette, calzini e mutande. Cercando disperatamente un nascondiglio migliore, attraverso di corsa al pavimento e mi tuffo in una scarpa di Duane. Non una grandissima idea. Lucifero si scaraventa sulla scarpa, rovesciandola e rovesciandomi di lato. Vedo le stelle, le orecchie mi fischiano. Lucifero sibila felice. È pronto a giocare un'altra volta a gatto col topo con la mia vita. Tira indietro una zampa per colpirmi e io mi raggomitolo come una palla da tennis pelosa. Mi colpisce una volta e rimbalzo contro il piedistallo della tv. Mi colpisce di nuovo e sbatto contro una scarpa da tennis puzzolente. Non potrò sopportare molti altri colpi in testa. Le stelle che vedevo si sono trasformate in costellazioni. Quindi tento un ultimo trucco. Wuff! Abbaio a pieni polmoni. Wuff! Riesco a imitare piuttosto bene il perfido cane da guardia che conoscevo nel luogo orribile. Sbalordito, Lucifero si blocca un attimo prima di colpire. La mia interpretazione di un Doberman è sufficiente a fargli uscire gli occhi dalle orbite come fosse un chihuahua. Afferro l'occasione prima che Lucifero afferri me. Questo cacciatore di palline pelato mi ha concesso uno spiraglio e a un topo tutto ciò che davvero serve è uno spiraglio. Sfreccio via dalla stanza e torno a precipizio in cucina. Dietro la cucina, oltre il frigorifero, c'è una stanza più piccola, piena di scarponi infangati e giacche a quadri sporche. E guarda guarda vedo un altro sportello per animali molto ben posizionato. Parto a razzo e mi catapulto oltre l'anta di gomma. Anche Lucifero, che è poco dietro di me, si lancia verso lo sportello, ma a giudicare dal potentissimo ululato che sento alle mie spalle sono quasi certo che abbia sbagliato Mira.